Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Ci avviciniamo alla fine delle festività natalizie e allora nelle varie città siciliane, tempo di ultimissimi eventi per concludere proprio in bellezza questo periodo di festività. Andiamo ad esempio a vedere cosa si svolgerà in questi giorni a Adaci San Filippo, nel Catanese. Adaci San Filippo anche quest'anno torna la tradizionale Kona che con l'appuntamento sulle note del Natale, atteso spettacolo natalizio giunto alla seconda edizione e con il concerto bandistico, porterà al termine il ricco calendario natalizio allestito dal parroco Don Roberto Strano, in collaborazione con i membri del Comitato dei Festeggiamenti in Onore del Patrono San Filippo da Gira. Dal 5 al 7 gennaio la Basilica sarà la culla di Gesù Bambino, alla quale i fedeli e i turisti potranno accostarsi con fede e stupore apprezzando la bellezza. La Kona, progettata da Sebastiano Florio, è sempre suggestiva e riveste ancora molto interesse, tanto che nell'altare del Santo Patrono si allestisce questo particolare altarino con la Santa Famiglia adornata con agrumi, frutta, fiori, foglie e dolci, tutti elementi associati all'inverno. Questa sarà l'occasione per svolgere i canti tradizionali, le nenie e le poesie, che saranno i protagonisti dello spettacolo sulle note del Natale organizzato da Antonino D'Amico e del concerto del corpo bandistico guidato dal maestro Michele Pio Barbagallo. Come membro del Comitato San Filippo da Gira ho il piacere di invitarvi a quella che è la manifestazione conclusiva di questo Natale vissuto in parrocchia. Vi invito a visitare la Kona che noi membri del Comitato realizzeremo e che sarà visitabile nei giorni 5, 6 e 7 gennaio all'interno della Basilica di San Filippo. La Kona, che è un'antica tradizione siciliana, tipica, veniva allestita, viene ancora allestita in molte chiese, in molte case, in occasione della festa del Santo Natale. Quindi il mio invito è quello di venire a visitare quest'opera che noi stiamo riproponendo per mantenere sempre vive le tradizioni della nostra bella terra di Sicilia. Parliamo adesso di agricoltura. Sono stati pubblicati quattro bandi per un totale di 35 milioni di euro per favorire la competitività delle imprese siciliane. Vediamo nel dettaglio di che si tratta. Quattro bandi per un totale di 35 milioni di euro per sostenere la competitività delle imprese agricole siciliane. Sono provvedimenti, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, che puntano a sostenere le attività di promozione dei prodotti, la condivisione di conoscenze e innovazioni in agricoltura, fornire supporto all'apicoltura e migliorare le pratiche di allevamento. Vogliamo rendere le nostre imprese sempre più competitive e al passo con i tempi. Lavoriamo spediti e in tempi celeri per dotare i nostri agricoltori di strumenti idonei ad affrontare le sfide di un settore strategico, ha concluso l'assessore San Martino. 5 milioni di euro sono destinati alla promozione dei prodotti di qualità verso consumatori e operatori del mercato europeo. L'obiettivo è informare sulle caratteristiche nutrizionali delle produzioni agroalimentari, evidenziando i vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili. Inoltre, il bando punta a favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. Un altro bando è rivolto alla diffusione e condivisione di conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali. La dotazione finanziaria di un milione e mezzo servirà a sostenere servizi di back office per fornire informazioni e supporti specialistici sull'uso delle risorse naturali, di eventi atmosferici e cambiamenti climatici, di problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali e sulle condizioni dei mercati e la gestione di impresa. Sono 7 milioni e mezzo invece le risorse destinate all'apicoltura. In particolare, il provvedimento vuole contrastare il declino degli impollinatori, sostenendo le pratiche di apicoltura che tutelano la biodiversità. Infine, via libera anche al quarto bando, che con 21 milioni di euro incentiva pratiche di allevamento più sostenibili, che assicurino minore stress e sofferenza fisica agli animali, un'alimentazione adeguata, minori emissioni e una migliore gestione di reflui e deiezioni. Il 2023 si è concluso da poco e quindi è tempo di bilanci, come questo ad esempio che riguarda le attività svolte proprio nel 2023 dalla Polizia Ferroviaria, un bilancio che tra le altre cose parla anche di ben 27 arresti. La Polizia Ferroviaria della Sicilia, nel corso del 2023, ha intensificato i servizi di controllo del territorio di competenza al fine di prevenire e contrastare eventi delittuosi e illeciti in ambito ferroviario. L'attività posta in essere ha consentito di controllare 179.559 persone, di cui 28.452 a bordo dei treni regionali e 7.074 a bordo dei convogli a lunga percorrenza. Per garantire i servizi sono state dislocate 17.166 pattuglie in divisa e abiti civili, che hanno presidiato gli scali e le linee ferroviarie della Sicilia, nonché 4.152 treni. I veicoli controllati sono stati 1.973, 651 invece le contravvenzioni elevate. I controlli capillari sul territorio di competenza hanno permesso di arrestare 27 persone, denunciarne 205 e procedere al sequestro di 6 armi bianche, 4.200 euro di banconote contraffatte e sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre recuperati circa 120 kg di rame rubati da infrastrutture ferroviarie, mentre circa 8 tonnellate di metalli misti e rifiuti speciali pericolosi sono state sequestrate a imprese operanti illecitamente nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti. Nel corso del 2023, inoltre, sono state pianificate 41 giornate di controlli straordinari organizzate a livello nazionale dal servizio polizia ferroviaria. Doppia operazione della squadra mobile a Ragusa sono state eseguite delle misure cautelari nei confronti di due pericolosi stalker. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi la squadra mobile della questura di Ragusa ha tratto in arresto due persone ritenute responsabili di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale su minori e lesioni. Uno straniero regolare sul territorio nazionale, da anni residente in Italia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una sequela di condotte criminali ai danni di familiari, è risultato assente in quattro diversi controlli effettuati dai poliziotti delle volanti presso la sua abitazione. Comunicati i fatti, l'autorità giudiziaria competente, valutato l'aggravamento delle esigenze cautelari, ha sostituito la misura in corso con quella più afflittiva della custodia in carcere. Nella medesima giornata, all'esito di un'attività investigativa svolta dalla squadra mobile della questura di Ragusa, è stato arrestato un altro pericoloso stalker ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della coniuge e del figlio minore. L'uomo ha violato ripetutamente la specifica prescrizione del divieto di avvicinarsi alle parti offese e alla loro abitazione, dando inizio, peraltro, a una serie di molestie anche nei confronti di altri soggetti. Anche in questo caso, all'autore delle condotte persecutorie è stata aggravata la misura coercitiva del divieto di avvicinamento con l'applicazione di strumenti di controllo elettronici, il cosiddetto braccialetto elettronico, che consente alle vittime di conoscere in tempo reale l'eventuale vicinanza dello stalker nella sfera vietata, nella circostanza stabilita dall'autorità giudiziaria in 500 metri. Restiamo nel Ragusano, in questo caso la notizia arriva da Vittoria, dove un giovane è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Era infatti evaso da mesi dagli arresti domiciliari e si era reso irreperibile. Continua senza sosta l'attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, anche al fine di garantire la corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria. In particolare, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Catania, nei confronti di un vittoriese. Il giovane, evaso dagli arresti domiciliari ad aprile dello scorso anno, è stato individuato dai carabinieri nei pressi del suo domicilio a Vittoria. I militari dell'arma, dopo averlo identificato compiutamente, lo hanno condotto presso i loro uffici. I carabinieri, dopo aver proceduto nei confronti del giovane a deferirlo in stato di arresto all'autorità giudiziaria per il reato di evasione, gli hanno congiuntamente notificato il provvedimento dell'ordine per la carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria catanese, poiché è condannato a espiare la pena della reclusione per fatti commessi a Vittoria nel mese di marzo 2022, traducendolo presso la casa circondariale di Ragusa, terminate le formalità di rito. Un 29enne è stato invece bloccato e denunciato dai carabinieri ad Alcamo, nella Trapanese. L'uomo era infatti scappato durante un controllo dei militari dell'arma, non si era fermato ed era fuggito via a bordo della sua auto. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno denunciato un 29enne del posto per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Il soggetto, alla guida della propria autovettura, non si è fermato all'alt intimatogli dalla pattuglia, che stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale, dandosi a precipitosa fuga per le vie del centro cittadino a elevata velocità. L'uomo, poco dopo, ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro un edificio. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'auto era priva di copertura assicurativa. Il 29enne, come detto, è stato denunciato dai carabinieri. A Catania la polizia ha invece scoperto una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio. Un 35enne è stato arrestato. Mentre erano impegnati in attività di controllo del territorio, l'attenzione degli operatori della polizia è stata attirata dalla sala cinesca di un deposito aperta a metà in via della Concordia. Insospettiti hanno deciso di effettuare un controllo. Una volta entrati all'interno dei locali, adibiti allo stoccaggio di bibite, gli operatori della squadra volante della questura di Catania hanno notato la presenza di un uomo, noto pregiudicato catanese, mentre di spalle era intento a inserire degli inneschi e ad assemblare numerosi artifici esplosivi artigianali applicando del nastro adesivo di carta alla miccia già inserita. Gli agenti si sono trovati dinnanzi a una vera e propria fabbrica clandestina di artifici esplodenti, circostanza valorata dal rinvenimento di materiale per il confezionamento come forbici, nastro adesivo, pezzi di carta da imballaggio. Il 35enne è stato fermato, portato fuori dal deposito e messo in sicurezza. Successivamente, considerata l'enorme mole di esplosivo presente sul posto e il gravissimo rischio connesso alla sua giacenza senza alcuna misura di sicurezza in locali non idonei, i poliziotti hanno richiesto l'intervento sul posto del personale specializzato del nucleo artificieri della questura e del gabinetto regionale della polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Giunti sul posto, gli artificieri hanno proceduto in sicurezza al recupero e allo stoccaggio di quanto rinvenuto. Nel frattempo gli agenti delle volanti hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del 35enne che ha dato esito positivo. Sono state infatti rinvenute 10 batterie di fuochi pirotecnici di libera vendita che sono state sequestrate in quanto superavano la percentuale di materiale esplosivo che può essere detenuto in assenza di specifiche autorizzazioni. Dopo un'accurata verifica di tutto il materiale rinvenuto nel deposito, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di ben 1.876 manufatti esplosivi illegali di varie dimensioni. Tutto il materiale sequestrato, vista l'elevata pericolosità, è stato affidato in giudiziale custodia a una ditta specializzata in attesa della successiva distruzione. Al termine delle attività di rito, l'uomo è stato tratto in arresto per i reati di fabbricazione e detenzione di materiali esplosivi senza licenza dell'autorità e ristretto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Via Libera in Sicilia alla riqualificazione di 13 strutture sportive. Via Libera dalla regione siciliana alla riqualificazione di 13 strutture sportive dell'isola. Gli interventi saranno possibili grazie alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo e dell'assessorato regionale del Turismo per un totale di 3 milioni e mezzo di euro. I primi progetti esecutivi di ristrutturazione, riqualificazione e messe in sicurezza riguardano le province di Messina, Catania, Agrigento, Ragusa, Siracusa e Palermo. Nelle prossime settimane a questi si aggiungeranno altri due interventi, le cui istruttorie sono in fase di completamento, destinati ai comuni di Sant'Agata di Militello, nel Messinese e Modica, in provincia di Ragusa, per un totale di circa 700 mila euro. Abbiamo condiviso, ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Elvira Amata, le esigenze delle amministrazioni comunali. Sono certa che questa iniziativa, possibile grazie alla strettissima sinergia ormai fortemente consolidata con gli uffici del Ministero del Turismo, costituirà un'ulteriore occasione, tra l'altro, per implementare significativamente anche l'attrattività turistica degli impianti che potranno essere utilizzati, ha concluso l'assessore. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS